Da oggi è in corso a Rosà una campagna di controllo della qualità dell'aria svolta da Arpav con una centralina mobile. L'attività dell'enter regionale che si occupa di ambiente sarà eseguita in via dei Fanti e durerà circa due mesi. Si tratta della seconda campagna prevista nell'anno in corso. La centralina controllerà i principali parametri inquinanti come il biossido di zolfo, il benzene e il toulene, l'ossido di carbonio e azoto, l'ozono e naturalmente le polveri sottili che tanto preoccupano sul fronte dell'inquinamento, ovvero le PM10. Alla fine del monitoraggio verranno resi noti i dati, anche se già dai primi giorni di controllo ci si potrà fare un'idea della situazione.